Già iniziata la stagione del calcio femminile, il Napoli Carpisa Yamamai Serie A2 ha presentato l'annata iniziando con l'indisponibilità del Collana e ha scelto di giocare a Pozzuoli. Calate le iscrizioni nel settore giovanile, hanno sottolineato i dirigenti, ma anche solidarietà, con la donazione di kit di magliette per il gruppo sportivo dell'associazione Cirovive a Scampia, era presente anche la mamma Antonella Leardi.